Non ho la favore, è la prima traduzione. Prendiamo. No, su. Prendiamo? No. No, per il... per il... per il... per il... per il... per il... Diciamo anche per l'occhio, diciamo... Per l'occhio, diciamo... No, niente. Guarda... E c'è il suo, come si chiama? Guarda, senti... C'è il suo, come si chiama? Buonissimo. Prendiamo un anno, proprio 10. Eh? Diciamo che le spese per seconda ci vuole... Scalare a 50 anni, non si chiama l'assessore. Puoi? Minchia, stas ammazza. Questa ora mi stava dicendo finché mi vuole giocare. Intanto io, no? Vedi le valutini, i due suoi... Invegne, qualsiasi non sarebbe suono. Oh! Oh! E... C'è il suo... Aspetta un anno. Ma se ne va a pulire! Non c'ho l'ego... Non c'ho l'ego. Non c'ho l'ego. Salve il mio strumenti non sarebbe un buon anno. E poi... No c'ho l'hego. No c'ho l'ego. E poi...